Conclusa anche il Festival delle Generazioni oggi. Sì, è stata una bella manifestazione. Per la terza volta Firenze ospita questo festival. Io mi auguro che diventi un appuntamento fisso in città. Centinaia e centinaia di anziani, ma anche tanti giovani. Per dire una cosa molto semplice, che il paese non si rialza se c'è uno sconto tra le generazioni, ma si rialza soltanto se c'è una vera determinazione a cambiare e a farlo insieme, mettendo insieme i giovani, i meno giovani, nonni, genitori, figli, perché la forza dell'Italia è sempre stata la comunità, è sempre stata nel patrimonio di relazioni umane. Sarà una cosa scontata, ma per me non lo è. Io credo che alla fine per risollevarci anche dalle diseguaglianze sociali, dall'egoismo, dalle paure, dobbiamo scommettere di nuovo sulle relazioni umane, sulle relazioni tra le persone. Firenze è una città ricca di queste esperienze, di senso civico, di desiderio, di partecipazione. Non dobbiamo disperdere questa energia, questa voglia di dare il proprio tempo, le proprie risorse alla comunità e alla città. Solo così ci rialzeremo. E io sono fiducioso, non perdo mai il mio ottimismo, anche perché ho visto al Festival delle Generazioni tanto ottimismo, tante persone che si rendono conto della difficile situazione che stiamo vivendo, ma che non perdono la convinzione e la determinazione a uscirne fuori.